Romina, Minadeo, Cesare Cadeo, fa anche rima, non sto corteggiandola su una parchina al parco, bensì siamo qua perché degli amici ci hanno pregato di fare un appello per aiutare, tra le tante esigenze di questo paese, dei bambini, dei bambini di Gavorrano, provincia di Grosseto, posto fantastico, pensate anche nella ricca Toscana, ma questo è il segno del paese in questo momento, è davvero una difficoltà, ci sono famiglie che non hanno la possibilità di mandare i bambini per esempio in vacanza, di poterli accudire come ogni bambino merita e dovrebbe avere la dignità da avere da parte della società, e allora so che le richieste sono tante, perché ogni giorno siamo sottoposti a delle pressioni d'amore, vi prego aiutateci, vi prego aiutateci, è anche la mia, vedi? Sì ma certo, si introduce così, io sono mamma, tu sei papà, sei nonno di due meravigliosi bambini, potevi far meno di dire che ero nonno, raccontentare di dire solo papà, però va bene, va bene, va bene, anzi vuoi tenere gli istanti, non sto corteggiando, è solo una collega bellissima, e mi conosci da quando ero io una bambina, insiste, comunque a parte le battute. Come si fa ad aiutare questi bambini? Allora basta andare sul sito www.bonacausa.org nella sezione infanzia, operazione cuore 2, quindi semplicissimo, basta anche un piccolissimo contributo, insomma, se si può mettere di più, se si può donare, insomma, veramente una goccia, come dicevi prima? Anche una goccia nel mare, nel mare dell'amore funziona ancora, nel mare magari dell'egoismo umano, una goccia non è niente, ma nel mare dell'amore fa tanto, o tra l'altro, fate un piccolo esperimento, sapete le monettine che voi, la sera tornando a casa, o voi donne tirano dentro la borsetta, o noi in tasca, i pantaloni sappiamo dove vede, mettetele da parte, tenetele lì per una settimana e fate l'operazione, l'operazione cuore 2, il primo è il vostro cuore, e poi c'è il secondo cuore, che bisogna avere tutti, ripetiamo la cosa, allora, andiamo sul sito www.buonacausa.org, sessione infanzia, operazione cuore 2, e noi ci vediamo il 3 giugno, perché noi ci saremo, quindi io aspetto, sì, perché c'è questa serata, anzi c'è una serata fantastica, sai dove? Lavorrano, il 3 giugno, ed è un posto tra l'altro meraviglioso, faremo questa cena in onore di questo evento, di beneficenza per questi giorni, quindi speriamo che verrete in realtà, sicuramente, adesso cominciamo a dare ogni settimana, da qua a giugno, vi daremo un appuntamento, ci sarà un richiamo, o ricordatevi, venite a Gaborano, la Maremma è stupenda, è bellissima, e avrete anche l'occasione davvero di avere un altro cuore nella vita, tutto nuovo.